Perzona, persona, persona Perzona, persona Perzona, persona Perzona, persona Perzona, persona, persona Perzona, persona, persona Che riesce laura da ogni portone Ma quanti, persona, persona, persona Perché è sta città Renaissance Adesso accanto a me Ho un attore Un attore, come ti devo definire Salvatore Zanni un attore un attore un attore punto quando dobbiamo far ridere facciamo ridere ma secondo te vogliamo ridere o vogliamo piangere vogliamo ridere perché già abbiamo pianto abbastanza un saluto a tutti esattamente questa è la trasmissione il programma della rinascita dell'ottimismo della luce e io lo dico subito amici a casa io nel vedere Salvatore nell'ascoltarlo al telefono nel fare le mie interviste telefoniche con i nostri ospiti già ridevo infatti ora ci sentiremo una volta al giorno minimo ah certo se mi devi portare ottimismo nella mia vita va benissimo senti Salvatore tu come tutti gli attori è divertente questa cosa perché si nasce in parrocchia eh sì è vero è vero è vero è vero e poi la parrocchia mia è una parrocchia particolare perché nella mia parrocchia è nato Sant'Alfonso Maria dei Liguori che ha scritto tu scendi dalle stelle che è la canzone più cantata al mondo di Natale ma che facevi in parrocchia? in chirichetto innanzitutto perché quello di stare in scena nasce proprio dall'altare e poi dopo in parrocchia abbiamo iniziato con Scarpetta ovviamente e anche Edoardo abbiamo osato fare Edoardo da piccolini e poi abbiamo fatto diciamo la diversificazione siamo cresciuti va? ma tu sei molto molto bravo davvero tanto che vieni subito catturato e preso da una compagnia importante dove poi lavori per tanti anni e soprattutto grazie perché attraverso coloro con i quali hai iniziato in effetti hai debuttato nel teatro vero e sono Cetti Sommella che ricordiamo scomparsa da poco è un abbraccio particolare naturalmente a Nando Paone due grandi attori con i quali tu hai iniziato infatti stiamo vedendo una locandina sì sì parecchi anni fa cosa ricordi di quegli anni? ricordo il divertimento ma ricordo anche la grande professionalità di Nando e di Cetti e devo dire la verità i testi di Cetti erano dei testi con un significato profondissimo e recitare con lei, farsi dirigere da lei e ovviamente da Nando è stata una delle cose più importanti che poi mi hanno formato per il futuro sicuramente sicuramente e infatti quanti anni sei stato più o meno con loro? 5 anni 5 anni 5 anni in compagnia abbiamo girato diverse piazze ci siamo divertiti prevalentemente perché il teatro quello vero è il teatro che fa divertire deve far divertire innanzitutto gli attori altrimenti non trasmetti quella gioia e quella felicità senti poi c'è stata una parentesi molto carina adesso se Federico e Antonio sono pronti perché tu praticamente ti posso definire un partecipante ai quiz come si chiamano le persone che partecipano a tutti i quiz nazionali è vero è vero è vero sono un concorrente seriale un concorrente seriale sì e ho partecipato alla maggior parte dei quiz mi dici questo qual'era? questo si chiamava apri e vinci no lo fa ancora sì apri e vinci sì con della grandesca questo ovviamente avanti un altro ma hai sempre vinto? ho sempre vinto sì ovviamente nell'eredità per esempio sono diventato campione ho vinto però senza vincere la quota finale dopo quindi sei andato a casa senza niente? all'eredità sì invece con avanti un altro no con avanti un altro oppure ho superato la parte finale è il quiz show non mi ricordo nemmeno quello delle canzoni con Papi con Papi l'abbiamo vinto sì una bella cifretta però devo dire la verità non è mai stato un qualcosa per poter vincere soldi vi dico la verità no 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 ma comunque è un'esperienza e un divertimento era una modalità per portare una napoletanità diversa in trasmissione perché c'è stato un periodo storico in cui Napoli veniva vista solo con diciamo delinquenza delinquenza e spazzatura quindi venivano sotterrate insieme alla spazzatura anche tutte quelle altre cose invece sono la cultura di Napoli e ahimè sono la cultura italiana hai ragione perciò mi piace perché a parte che lui è un laureato in istoria non ci sembra è un laureato in istoria anzi proprio ti sei laureato con la storia di Napoli sì sì è stato sì la tesi è stato il là per degli approfondimenti anche lessicali legati proprio alla città di Napoli alla nostra lingua esattamente nasce infatti Partenope io comunque in città in sempre i miei format io sono alla ricerca di persone che amano Napoli soprattutto che rimangono a Napoli che capiscono che da Napoli si può trarre tanta tanta cultura con Partenopei tu hai lanciato questo format molto molto carino in cui praticamente spieghi in maniera semplice e fai capire perché nascono delle espressioni napoletane tipo tipo che ne so mannaggia marina ecco che noi diciamo spesso perché c'è sempre un fatto storico legato ad una parola ad una frase napoletana ma anche italiana in tutte le lingue il fatto storico è importantissimo mannaggia marina per esempio è legato a una situazione particolare quando si unì l'Italia diciamo unire l'Italia ma in realtà è quando il regno di Napoli venne conquistato cosa accadde? Garibaldi partì da quarto arrivò a Marsala e iniziò la conquista ma come è possibile? il regno di Napoli che è la flotta più grande del Mediterraneo seconda in Europa solo a quella inglese non brevesse i tre barcatel che partivano e andavano a conquistare l'Italia questi mille cosa accadde? accadde che gli ammiragli furono comprati ovviamente da Vittorio Emanuele II che poi ci conquistò e automaticamente il re il re Francesco II di Borbone venne tradito appena la notizia del tradimento arrivò a Palazzo Franceschiello ovvero Francesco II di Borbone disse mannaggia a marina proprio con riferimento alla marina militare e si coniò anche la parola mannaggia che in realtà è la contrazione di una frase cioè male ne abbia in napoletane male ne agge quindi mannaggia mannaggia a marina quella che era in realtà una frase detta da un re divenne di dominio pubblico dominio popolare ed è arrivato ancora oggi a noi che la diciamo almeno io la dico è una frase che realmente esiste bravissimo Salvatore davvero complimenti ti posso chiedere di una frase che ho sempre curiosità sì mantenimmo carra pascesa sì mantenimmo carra pascesa è quando noi dobbiamo avere pazienza nel fare qualcosa però anche questo lascia da un fatto storico legato alla fine del 1800 quando si facevano i trasloghi a Napoli Napoli è famoso per i trasloghi perché di quale giorno? il 4 maggio non ti colgo in preparato è ovvio si facevano i trasloghi perché in realtà erano i sfratti la gente veniva cacciata perché non pagava il fitto automaticamente che succedeva? non c'erano né furgoni né auto ci stavano i cavalli e i carri pieni Napoli è una città verticale nel senso che parte dal mare e arriva fino alle colline colline di Camaldo lì del Bomber e tutte le altre cosa accade? quando i trasloghi venivano fatti dall'alto verso il basso il cavallo non poteva trasportare un peso così grande perché i trasloghi erano pieni di robe quindi che succedeva? che il cavallo non riusciva a sopportare il peso il cavallo doveva essere staccato e chi veniva in soccorso? i poveri operai gli operai si mettevano davanti al carro e piano piano nella discesa facevano scendere il carro perché? perché non doveva ribaltarsi perché non solo non venivano pagati ma poi dovevano comprare tutte le cose che avevano rotto quindi mantenevano il carro era sceso e piano piano scendeva 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 finché non arrivava a valle e andava tutto bene è bellissimo tu ne hai tante di frasi partenopei salvatore zanni è davvero straordinario guarda grazie per essere stati con noi in città e c'è una sorpresa dai può essere che il nostro pubblico di in città non ti abbandoniamo non ti abbandoniamo perché comunque è da una base di cultura la nostra bella cultura davvero ed è divertente sentirlo con questa tua voce tu sei proprio comico già nella voce lo sai la voce e pure la faccia diciamo diceva ma sicuramente la telecamera mi sta inquadrando di qua e Totò diceva questo è l'inquadratore dello schifo e sì sono io sono io un'altra espressione per lasciarci un'altra espressione per lasciarsi Amaronna d'Accompagna questo era mitico il cardinale Sebe esatto un sub la diceva sempre Amaronna d'Accompagna pure legata a un'immagine che in realtà veniva messa in tutti i vicoletti di Napoli che serviva in realtà per illuminare Napoli e non far fare rapine e scetti e venne ordinato da Ferdinando IV di Borbone quindi ogni vicoletto aveva questa immagine della Madonna illuminata e tu quando uscivi di casa vedevi la Madonna e la mamma diceva che Amaronna d'Accompagna nel senso vai sempre dove sta la Madonna perché la strada è illuminata questa la sapeva è bellissima e lasciamo con la luce della Madonna grazie Salvatore Zani per essere stato con noi in città persona, persona, persona che riesce a una paura da ogni portona ma quanti persona, persona, persona perché stagì tanto grazie a tutti